ciao ragazzi oggi siamo qui a presentarvi due prodotti due new entry a uno è un prodotto del mese e sono i waters prox px 331 331 e poi abbiamo la paligetta della meglio versus 3080 io inizierei waters allora qui troviamo subito subito due solette questa che la misura l poi vediamo fuori ecco lì qua ale carro armato sotto leggerissimo per questo periodo secondo me sono perfetti è un kit di riparazione abbiamo la cinta in modo che così poi possiamo anche stringerci bene in panza in vita a noi panza tu c'hai la vita io ho la panza allora adesso one moment metto via lui eccoci qua versus 3080 è la più grande della famigliola andiamo a spaccettare eccoci qua ragazzi abbiamo lo scomparto superiore trasparente bello capiente e poi ci sono tutte le varie i segmenti da montare e uno lo diciamo lo gestisce come meglio crede e vuole e poi abbiamo il vano più grande quello sotto questo qui è pensato apposta per gli spinnerbait addirittura però come potete vedere è tutto quanto removibile facciamo così così e potete anche avere solo tutto quanto il vano certo io vado a levare tutto quanto qui c'è niente di roba in più questo qui lo facciamo vedere subito allora io lascio aperti i ganci ok tiro su protezione la valigetta non sia e qua sopra invece abbiamo questa questa linguetta che la tiriamo fuori ed è sempre comunque una sicurezza per chi è scordarello come me soprattutto perché lascio tutto quanto aperto poi vado ad aprire mi casca tutto quanto per terra bravo grazie bene ce l'abbiamo anche in altre colorazioni nera gialla verde rossa e basta allora questi sono i due prodotti che abbiamo voluto presentarvi oggi ce n'è anche un terzo in realtà si ci arrivo subito al terzo perché volevo dire che di queste valigette presto troverete sul sito anche tutti quanti i vari optional tra cui la bretelletta permette la tracollina esatto la bretelletta permette la tracolla la tracolla e tutti quanti i vari gadget il terzo prodotto è costui che cos'è garmin instinct 2 solar è un regalo lo sto testando molto interessante ha tante funzioni si può collegare al telefono tramite l'app di garmin abbiamo tutte quanto il controllo di tutti quanti le varie app e funzioni appunto e c'è la funzione fisca non solo c'è la funzione navigazione c'è il gps c'è la bussola c'è la funzione per lo sci c'è la funzione per il trekking ce ne sono tante perché a te piace allora intanto è leggerissimo comodissimo e hai sempre tutto quanto oltre che a portata di polso il telefono ce l'hai tu ok io cercavo il telefono il bello della diretta ragazzi e niente volevo far vedere appunto che sul telefono c'è l'app è uno smartwatch è uno smartwatch è proprio non è touchscreen lui lui è con i tasti dietro che poi io adesso non posso farlo sentire ma sono molto solidi c'è il click non so se seguete bene le varie funzioni non so perché c'è molta luce c'è molta luce vero magari facciamo un video ad hoc ad hoc sì esatto dove proprio lo presentiamo a dovere nulla ragazzi io vi saluto vi invito a restare connessi visitate il nostro sito per qualsiasi cosa contattateci e al prossimo video ciao 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 ciao